Voglio che i miei abiti trasmettono un'idea di eleganza disinvolta senza produzione. Puntiamo alla cura dei dettagli e alla scelta dei tessuti migliori, conservando le caratteristiche che hanno fatto grande la sartoria napoletana. Padroneggiare nelle tradizioni ci permette di osare nelle contaminazioni, nelle scelte di stile. Questo è ciò che fa oggi un uomo elegante. Siamo nati napoletani e apparteniamo a una scuola sartoriale prestigiosa, con il potenziale per conquistare tutti i mercati. Con questa consapevolezza abbiamo portato il nostro stile in giro per il mondo. Attraverso uno studio della moda internazionale abbiamo tentato a rinnovare il nostro brand. È una sfida notevole. Ad oggi siamo soddisfatti e pronti per raggiungere nuovi obiettivi. Nonostante l'aumento della proposta, produzione, i nostri capi vengono lavorati tutti a mano, seguendo l'antica tradizione napoletana e seguendo i canoni dettagli da Luigi dal cuore. Per poterci adeguare alle nuove esigenze di mercato abbiamo dovuto allargare la nostra filiera produttiva. ed è per questo che abbiamo aperto una nuova sede di Arzano. Grazie! Grazie! Applausi! Grazie! Applausi! Grazie! Grazie a tutti.